A Roma Termini è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. I livelli Exetropic e Business sono in coda al treno. Il treno alta velocità fraccia rossa 85.03, di Trenitalia, delle ore 8.45, proveniente da Bergamo, e diretto a Roma Termini, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. I livelli Exetropic e Business sono in coda al treno. Il treno regionale, di Trenord, delle ore 8.41, Beniseo, è in partenza dal binario 2 ovest. Ferma in tutte le stazioni E100, Mandoloss. Il treno Italia, di Tren pizza di 18.45.03, di Meredamo, della sonata da Roma Termini, dell'arrivo advertising aves себя, è arrivare in partenza tra pleine 1. A di полta di Stavi, i un'arrivo brand…! Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.